Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con quello che è successo con Luna perché su Instagram mi avete travolto le domande per quanto riguarda quello che sta succedendo e soprattutto su cosa fare in questo video voglio parlarvi di alcune cose importanti per capire secondo il mio parere ovviamente secondo il mio umile parere su quello che potrebbe accadere tra qualche giorno come al solito restate fino alla fine prima di iniziare però lasciate un bel mi piace per supportarmi e se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che è pubblico iscrivetevi assolutamente al canale per quanto riguarda i crypto in trending negativamente su CoinMarketCap troviamo al primo posto TerraUSD con USD che ha perso ormai il 50% non è più ancorata al valore del dollaro per vari motivi di cui già ho parlato però è semplicissimo ragazzi e in questo modo anche Terra con Luna ha perso un meno 85% vedere TerraUSD con USD al quindicesimo posto con un meno il 50% e in questo momento si trova 0.45 centesimo di dollaro e secondo me continuerà a scendere ma soprattutto vedere anche Luna che era tra le prime 10 adesso non so neanche dov'è e quindi ragazzi questo è davvero molto ma molto brutto Luna ha perso l'85% in queste ore eccolo qui l'ho trovato finalmente al 38esimo posto ragazzi Luna in questo momento con un meno 95% negli ultimi 7 giorni e un meno 85.25% nelle ultime 24 ore nel momento in cui sto registrando siamo sui 4 dollari e 29 prendo il grafico così capiamo meglio cosa è successo a parte vediamo volumi davvero super super bearish qui perché sappiamo benissimo che diciamo non ha subito un hack attenzione USD ragazzi perché in molti dite ha subito un hack è stato solo manipolazione del mercato per portare il prezzo più giù ma è una cosa lecita che viene fatta spesso anche con altri token e non è per niente un hackeraggio del protocollo comunque se guardiamo il prezzo di Luna in questo momento ci troviamo sui 4.11 dollari ma soprattutto ragazzi cosa davvero importante è che in molti mi dite Stefano quale potrebbe essere adesso il famoso bottom? e ragazzi magari lo sapessi purtroppo non si può sapere perché in questa situazione in cui c'è questa forte pressione di vendita non sappiamo mai quale potrebbe essere il bottom questo in generale diciamo è sempre difficile scoprire il bottom ma in alcuni casi possiamo prevederlo guardando i grafici però se guardiamo l'RSA in questo momento è in super ma super iper venduto e questo potrebbe significare un'inversione di trend però in questi casi che comunque USD continua a scendere secondo me non posso dirvi che questo potrebbe essere il bottom anzi le persone stanno investendo tanto in Luna in questo momento perché si aspettano di tornare di nuovo a livelli incredibili raggiunti in questi mesi di addirittura 124-123 dollari però in questo caso vederlo a 4.27-4.26 potrebbe essere sì una buona opportunità però direi attenzione perché davvero quello che c'è dietro è davvero non dico grave però complicato da risolvere in pochi giorni potrebbero esserci delle mosse da parte della Luna Foundation per recuperare USD ovviamente quindi anche il token Luna potrebbe riprendersi però questa non è una sicurezza già ho visto dei crolli in questo caso se non mi sbaglio per Matic nei mesi scorsi sono convinto che anche Luna diciamo avrà una piccola ripresa a breve però non so quale sarà effettivamente il bottom e potrei anche assolutamente sbagliarmi quindi come al solito fate sempre le vostre ricerche perché non sono un consulente io in questo momento potrei utilizzare una parte del mio capitale per scommettere perché una scommessa su Luna è buttare questi soldi ad esempio anche 500-1000 per dire ok se il token si riprende ho fatto del profitto però devo essere consapevole, dovete essere consapevoli che potreste perdere questi soldi perché il token può benissimamente anche continuare a crollare purtroppo un po' questo è poco ma è sicuro per quanto riguarda invece il Bitcoin Fear and Greed Index siamo al numero 12 ieri eravamo al numero 10 in estrema paura piano piano stiamo recuperando per questo sono contento però attenzione perché la situazione resta sempre super instabile Bitcoin in questo momento si trova sui 31.542 e soprattutto abbiamo avuto una piccola ripresa però che succede? Io che mi aspetto? oggi è un giorno importante perché ci saranno gli CPI numbers e quindi mi aspetto tantissima volatilità e soprattutto ragazzi se saranno notizie negative il mercato potrebbe continuare a scendere se saranno notizie positive potremmo vedere una ripresa e io per chi non lo sapesse ho una sala segnali insieme a altri tre ragazzi abbiamo impostato un ordine long su Bitcoin ovviamente al limite se il prezzo raggiunge una fascia di prezzo che potrebbe essere cruciale per un rimbalzo una sorta di bottom che secondo i nostri studi potrebbe far rimbalzare il prezzo se volete dare un'occhiata alla nostra sala segnali qui in basso in descrizione e anche nei commenti pinnati trovate il link che vi porta direttamente al gruppo Telegram dove c'è possibilità di contattare la nostra assistenza vi dirà quali sono i prezzi e le modalità e se volete potreste entrare in questa sala vediamo analisi di mercato quasi giornaliere vediamo anche una sala guide con guide fatte da me per iniziare da zero con Bybit anche qui quindi se non siete esperti e soprattutto poi vi diamo i famosissimi segnali con entrata al limite, entrata al mercato con stop loss, break even, take profit e spiegazione di perché facciamo questo quindi tutte le info sono qui in basso in descrizione una cosa importante seguitemi anche su Instagram trovate il link sempre qui in basso in descrizione per rimanere aggiornati 24 ore su 24 e soprattutto ci sarà a breve un piccolo annuncio per la Blockchain Week a Roma perché regalerò un biglietto a voi iscritti con un contest quindi assolutamente andate su Instagram mandate su Telegram perché lì vi aggiornerò il biglietto costa lì circa 250 euro avete la possibilità di riceverlo gratis se mi seguite fate delle cose ben specifiche che annuncio tra qualche ora oppure anche domani quindi attenzione date un'occhiata anche ovviamente ai bonus che sono qui in basso in descrizione come quello di Young Platform è iniziato anche la community sale c'è possibilità di acquistare in pre-sale YNG e sarà listato dal 31 maggio in poi e sarà soggetto ovviamente a domande e offerta quindi adesso acquistandolo a 0.24 potrebbe essere un affare poiché quando verrà lanciato potrebbe valere molto molto di più ma passiamo un attimo allo sponsor di oggi perché voglio parlarvi di un'opportunità che reputo interessante per vari motivi tutti noi conosciamo benissimo Prime XPT e vi anticipo subito che avete un bonus che reputo interessante infatti tramite il mio solito codice che è qui in basso in descrizione Castiello 7 avrete fino a 7.000 dollari bonus depositando ovviamente sull'exchange e soprattutto anche il 25% di sconto sulle commissioni che non sono per niente male detto questo però adesso iniziamo subito perché nello specifico voglio parlarvi di Prime XPT poiché ha una funzione davvero interessante che è il copy trading in molti ormai so benissimo che volete fare trading però non sempre si hanno ovviamente le capacità per farlo e tramite il copy trading invece di Prime XPT c'è possibilità in questo caso di copiare altri traders e di ovviamente riuscire a fare profitto senza fare nulla in poche parole cliccando ad esempio su follow qui a destra possiamo seguire la strategia di questo trader però prima di poterlo fare ovviamente dobbiamo effettuare un upgrade della nostra membership per quanto riguarda le membership abbiamo la membership standard, advanced, premium e elite con la membership standard abbiamo un limite di 5.000 USDT con l'advanced 10.000, 15.000 con la premium e illimitata con l'elite ovviamente ragazzi il copy trading potrebbe essere davvero un'ottima opportunità soprattutto se avete un capitale da investire e da rischiare e non siete molto esperti nel trading e nell'analisi tecnica soprattutto ad esempio qui al secondo posto troviamo Fractals in questo caso e con un totale del più 6.000% quasi quindi questo è positivo possiamo analizzare diversi trader vedere le loro performance nel tempo e possiamo seguirli abbiamo anche i ratings quindi questa la reputo un'ottima opportunità soprattutto ripeto per chi non è molto esperto per acquistare invece cripto tramite PrimeXBT è davvero semplicissimo per farlo basta andare su Showscripto qui BTC ad esempio mettiamo poi la valuta Fiat, scegliamo Dollaro e possiamo scegliere sia CoinFi oppure Paxful ovviamente questo se non avete cripto su altri exchange e soprattutto tengo a specificare che CoinFi accetta i pagamenti SEPA quindi se avete un conto ad esempio come N26 come Revolut tranquillamente fate l'acquisto di Bitcoin avete una fees del 2% che non è malissimo anzi la reputo è davvero ottima però se avete altre cripto su altri exchange semplicemente ve le portate su questo exchange un'altra cosa che reputo interessante è il loro gruppo ufficiale inglese di Covesting per ora ci sono più di 11.000 persone quasi 12.000 quindi avrete anche una sorta di appoggio da parte loro su Telegram ripeto qui in basso c'è il link per registrarvi avrete tramite il mio link fino a 7.000 dollari di bonus depositando su questa piattaforma e anche il 25% di sconto sulle fees che non è per niente male detto questo grazie mille a tutti per la visione di questo video se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per supportarmi se non siete iscritti iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao a tutti ragazzi